Siamo lo scavolini store di Novara, insieme a Sonia Paronacci, che ha sempre tantissimi consigli da darci in cucina. Quale sarà il tema di questa sciocco film? Allora, muffin, ma inaspettatamente salati. Perché il muffin? Devi sapere, tutti noi pensiamo come il dolcetto, ovviamente la coppola, ma io in realtà oggi farò vedere come possa diventare un fantastico svuoto a frigo. Come vedi, i muffin lì sono di tre gusti, però in realtà, avendo qualcosa che ti avanza in frigo, che può essere, non so, salume dimenticato, il pezzo di formaggio che non mangi più, una verdura che dici cosa ne devo fare, da quello tu puoi farti dei muffin molto carini. Quindi fabbricati, bello, carino e anche veloce, perché di solito pensi al muffin e così sembra una ricetta in realtà complicata. No, 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 vedrai che poi si fa addirittura, noi faremo anche una specie di topping salato, però si fa veramente in una ciotola, perché poi ha una sorta di pastella, che in questo caso, come ti dicevo, io divido in tre, ma potremmo dividerlo in quante ciotole vuoi e ci metterò all'interno praticamente un condimento diverso, ma potrebbe essere il salame dimenticato, che ti dicevo non lo mangio più, il formaggio, tutto quello che vuoi. Lo metti all'interno, ho messo un'unica zucchina superstite, che dici ma che me ne faccio? una zucchina. Bene. Lì dentro. Sì, questo appuntamento fa parte di un tour che stai portando avanti. Sì, anche altre persone stiamo un po' girando per appunto gli stores Cavolini e stiamo praticamente portando anche qualcosa che si possa fare insieme e assaggiare. Grazie. Grazie.